Grazie a tutti. Via ai controlli in aeroporto serve prudenza, intanto Bassetti a punto di vista avverte attenzione alla variante indiana. Crollo della giostra poteva essere una strage, si continua a indagare sul cedimento della giostra a Palma Campania che ha causato una decina di feriti. Il sindaco Donnarumma dice le giostre avevano tutte le dovute autorizzazioni, siamo ancora sconvolti, solo per un puro caso è stata evitata una tragedia. Anziana uccisa a Salerno, quartiere sotto shock. L'anziana, sorella della vittima, è stata trasferita nel reparto di neurochirurgia. Con l'ok dei medici sarà ascoltata dalla squadra mobile e potrà fornire indicazioni utili sull'omicidio. Intanto il parroco invita la preghiera. Mare Goletta Verde boccia 14 siti campani. Mare inquinato su 31 località monitorate da Lega Ambiente, ben 14 presentano acque non in regola. Sotto accusa anche il lungomare Caracciolo di Napoli. L'ultimo rapporto di Goletta Verde promuova a metà le acque della Campania. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla scomparsa del pensionato di Prata in Irpinia. Anche la madre di un'amica della figlia dello scomparso è stata raggiunta da un avviso per favoreggiamento mister sempre più fitto. Camera di commercio Avellino Benevento. La CISL su Mastro Berardino si allarga il fronte a sostegno dell'imprenditore titolare della storica azienda Viti di Nicola Campana. Anche la CISL Irpinia Sanio conferma il sostegno al docente universitario in vista del voto decisivo del 19 luglio. Buonasera, ben ritrovati con la nostra informazione in apertura all'emergenza coronavirus. Altri 73 ricoveri in Campania con un tasso di incidenza oltre il 31% e De Luca avverte. Ci sarà un'ordinanza ad agosto via i controlli in aeroporto, serve prudenza. Intanto l'esperto Matteo Bassetti, ospite di punto di vista, dice attenzione alla variante indiana. Sentiamo. Sono 4.991 i nuovi positivi al Covid in Campania su 16.061 test esaminati, il tasso di incidenza e al 31,7% 30 le vittime di cui sei nelle ultime 24 ore. Sono 73 i nuovi ricoverati tra gli ospedali Campania. Il governatore De Luca Dischia in occasione della presentazione dell'ampliamento dell'ospedale Rizzoli predica cautela e annuncia una nuova ordinanza per provare a fermare il virus. Probabilmente dovremmo fare un'ordinanza per obbligare a fare i controlli negli aeroporti di tutti quelli che vengono dall'estero a fine agosto. Intanto è atteso il via libera del ministero per le quarte dosi, agli over 60 e De Luca non risparmia, bordate al ministro Speranza. Qualcuno di voi ha capito che diavolo dobbiamo fare per la quarta dose? Chi la deve fare? Obbligatoria o non è obbligatoria? Dilettanti allo sbaraglio. Intanto il direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, ospite del direttore Pierluigi Melillo a punto di vista, dice che bisogna tenere sotto controllo la sottovariante indiana molto più contagiosa. Abbiamo un virus che gira, circola molto velocemente, molto rapidamente. È molto facile che se questo virus colpisce qualcuno che ha una cena, una festa, in una discoteca, in qualunque tipo di evento anche, le persone si contagiano molto facilmente. Intanto in Irpina ieri due morti, altri 251 casi con 35 malati in ospedale, altri due i decessi nel Sagno e ricoveri risalita anche nel Salernitano. Si continua a indagare sul crollo della giostra Palma Campania che ha causato una decina di feriti. Il sindaco Donnarumma ha detto le giostre sono una tradizione ed avevano tutte le autorizzazioni. Siamo ancora sconvolti solo per un caso non è avvenuta una tragedia. La procura di Nola ha aperto un fascicolo sul crollo della giostra avvenuto domenica sera a Palma Campania e che ha provocato una decina di feriti. Sono tutti adulti tranne una dodicenne ricoverata al Santo Bono di Napoli. Per il momento risulta iscritto nel registro degli indagati il gestore dell'impianto, una donna di Poggio Marino, comune poco distante. I carabinieri nel frattempo stanno verificando il rispetto delle misure di sicurezza e le dovute autorizzazioni. E proprio sul collaudo e permessi il sindaco di Palma Campania tiene a precisare che l'apertura di un'area giochi di via Querce è una vecchissima tradizione locale nel periodo della ricorrenza religiosa e che era stata mantenuta anche quest'anno. I giostrai sono più o meno sempre gli stessi e anche la titolare dell'impianto crollato aveva già lavorato in passato a Palma. Prima di concedere le autorizzazioni, sottolinea Nello Donnarumma, il comune acquisisce una documentazione per ciascun impianto, cominciando dall'ultimo collaudo e dalla polizza assicurativa. Materiale che ovviamente aveva presentato anche la responsabile della giostra in questione e che sarà al vaglio degli investigatori. Intanto al vaglio dei carabinieri ora ci sono anche i video dell'impianto di videosorveglianza dell'area di piazza Mercato. A quanto emerge, osservando il luogo dell'incidente, il tronco della giostra, alto una dozzina di metri, si sarebbe sradicato dal suolo, abbattendosi sul lato e provocando i feriti. Solo per un miracolo non ci sono state vittime, dicono i residenti di Palma Campania ancora scossi per quanto accaduto. Stava mio nipote che stava venendo alle giostre, gli amici, e mi ha detto che la giostra avevano preso quel nastro che si prende e fortunatamente hanno un po' rallentato, altrimenti poteva succedere una strage qua. Sono giostre troppo vecchie per me, questo forse quando ho venito io da bambino su queste giostre, ci sono ancora. Ed ora l'assassinio di Maria Grazia Martino, la 91enne uccisa nella sua abitazione di via San Leonardo a Salerno. L'anziana sorella della vittima Adele è stata trasferita nel reparto di neurochirurgia con l'ok dei medici e sarà ascoltata dalla squadra mobile. Sentiamo. Potrebbe essere custodita nei ricordi di Adele Martino la verità su quanto accaduto nell'appartamento al civico 194 di via San Leonardo a Salerno. La sorella di Maria Grazia, l'anziana di 91 anni trovata morta in casa, è però ancora in precarie condizioni di salute. In queste ore i medici dell'ospedale Ruggi ne hanno disposto il trasferimento nel reparto di neurochirurgia. Quando le sue condizioni lo consentiranno sarà ascoltata dagli agenti della squadra mobile. La polizia è al lavoro per chiarire i misteri di un delitto che ha sconvolto il quartiere della zona orientale di Salerno. A lanciare l'allarme era stata la nipote delle due anziane sorelle che ha chiesto l'aiuto di un vicino di casa. Dopo dieci minuti è tornata piangendo, ha detto, vieni qua, mi devi aiutare. Che è successo? Vieni qua, io sono entrata dentro, le mie zie non le trovo, le sto chiamando e non le trovo. C'era tutto sotto sopra. Quando sono entrato dentro ho trovato una scena. Tutti i mobili sotto sopra, i cassetti, sangue a terra, vantò e poi verso la cucina c'era una porta che si portava alla cantina. Quella della rapina finita male resta l'ipotesi sulla quale si stanno concentrando gli investigatori. Secondo me sono entrato per trovare soldi o qualcosa. Poi erano due ecchiette. C'avevano due cani sempre slegati. Quella sera i cani erano attaccati. Intanto il parroco di San Leonardo, Don Paolo Carrano, ha ricordato la generosità e la gentilezza delle due sorelle Maria e Adele, molto legate alla comunità ecclesiale della zona. Affidiamo le braccia di Dio Maria, mentre preghiamo per la pronta guarigione di Adele, perché possa tornare presto in mezzo a noi. L'appello di Don Paolo Carrano. Saranno ulteriormente incrementati i servizi di controllo del territorio nei quartieri di Pianura e Ponticelli a Napoli. Di recente interessati da una recrudescenza criminale, quanto deciso nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto questa mattina dal prefetto Claudio Palomba. A breve sarà convocato il tavolo di osservazione per la nona municipalità, al quale parteciperanno tutte le istituzioni, denti coinvolti nelle attività sul territorio, ed anche le associazioni del terzo settore, proprio al fine di individuare ulteriori misure in favore delle comunità interessate. Per i quartieri di Forcella e Pianura saranno effettuati sopralluoghi mirati al rafforzamento del sistema di videosorveglianza. Nel corso della riunione è stata inoltre rivista la dislocazione dei militari del contingente Strade Sicure. Mare in Campania. Su 31 siti monitorati, ben 14 presentano acque inquinate. Anche il lungomare Caracciolo di Napoli. Ecco i risultati dell'ultimo rapporto di Goletta Verde. Anche quest'anno la fotografia delle coste campane presenta luci e ombre, mostrando ancora una volta la gravità della condizione della depurazione in Campania. Arriva puntuale il rapporto di Goletta Verde, la storica campagna di lega ambiente dedicata al monitoraggio e all'informazione sullo stato di salute delle acque italiane. Su 31 siti che si trovano lungo le coste della campagna, sono 14 quelli le cui acque risultano inquinate o fortemente inquinate, mentre i restanti 17 rientrano nei limiti consentiti dalla legge, tra cui anche il lungomare Caracciolo di Napoli. Ci sono sicuramente delle situazioni che sono leggermente migliorate, ma molte si confermano ancora critiche. Quindi la nostra richiesta ancora una volta è quella di mettere mano alla depurazione, che è carente o assente in molti di questi punti, e cercare di investire i fondi del PNRR nel modo più corretto e pulato possibile, proprio per arrivare a un ciclo integrato delle acque che consenta davvero di avere un mare pulito e ai cittadini di poterne usufruire. Le maggiori criticità sono state rilevate nella provincia di Caserta, nei pressi della foce del fiume Savone a Mondragone dei Regi Lagna a Castelvolturno. Da quando siamo partiti con Goletta Verde sono cambiate tante cose, perché prima noi trovavamo acque di balneazione, anche con forti carichi inquinanti, cose che ormai si trova davvero molto più raramente. Quello che rimane molto forte come criticità arriva proprio dai nostri fiumi, dai nostri laghi, dove invece scarichi illegali, depurazione non funzionante, eccetera, poi portano carichi inquinanti verso i nostri mari e sono i luoghi dove facciamo generalmente il bagno. La squadra dei vigili del fuoco di Bisaccia, intorno alle 14, è intervenuta sull'autostrada 16 nel territorio del comune di Lacedonia, proprio a confine con la Puglia, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola auto che è sbandata e finita contro il guardrail. A bordo dell'auto 5 persone, una famiglia di origine albanese proveniente da Roma e diretta a Bari per imbarcarsi per l'Albania. Nel violento impatto una donna è rimasta incastrata nell'abitacolo e dopo essere stata liberata è stata affidata ai sanitari del 118 intervenuti, i quali, viste le gravi condizioni, è stata trasportata dall'eleambulanza presso l'ospedale di Foggia per essere sottoposta alle cure mediche. Anche il marito e i tre figli sono rimasti feriti e sono stati trasportati a Foggia in ospedale per effettuare l'assistenza in atterraggio e decollo del velivolo. Si è reso necessario anche l'intervento della squadra del distaccamento di Grotta Minarda. Ed ora parliamo del caso Manzo, c'è il quarto indagato, è la madre di Loredana, la amica della figlia dello scomparso. Il 26 luglio intanto arriveranno i RIS per effettuare i rilievi sull'auto noleggiata la sera della scomparsa. Si allarga l'inchiesta sulla scomparsa di Domenico Manzo, il 69enne di Prata Principato Ultra, di cui non si hanno più notizie da gennaio del 2021. La procura di Avellino ha iscritto nel registro degli indagati per favoreggiamento anche la madre di Loredana Scannella, l'amica di Romina, figlia di Mimì. Inoltre la stessa procura questa mattina ha comunicato ai difensori delle quattro persone indagate che il 26 luglio si effettueranno gli accertamenti tecnici sulla T-Roc noleggiata da Romina e Loredana il giorno della scomparsa di Mimì. La svolta può arrivare proprio dagli accertamenti irripetibili dei RIS. Grazie a Luminol si scoprirà se ci siano ancora tracce di Mimì in quell'auto, perché gli inquirenti hanno un'idea il pensionato potrebbe essere stato investito e ucciso, poi fatto sparire proprio con quella vettura. L'auto fu noleggiata dall'indagata Romina Manzo per due giorni, è stata sempre guidata da Loredana, che ha sempre dichiarato di aver investito un cane quella sera, del quale gli inquirenti però non trovano traccia. La T-Roc, effettivamente, viene successivamente consegnata a noleggiatori in condizioni pessime, come conferma lo stesso dipendente dell'auto noleggio. La vettura presentava delle ammaccature ed era molto sporca sia all'interno che all'esterno. Intanto continuano gli interrogatori da parte della Procura e Carabinieri. Mercoledì verrà riascoltato presso il comando dei militari di Avellino il terzo indagato, l'ex fidanzato di Loredana. Salerno si mobilita nuovamente contro le fonderie Pisano. Flash mob in piazza Sant'Agostino di attivisti e comitati a chiudere la manifestazione l'ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Piazza Sant'Agostino a Salerno ha ospitato il flash mob organizzato dal Comitato Salute e Vita nel mirino di attivisti e residenti, ancora una volta, le fonderie Pisano. Alla mobilitazione ha preso parte anche l'ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Questa vertenza giusta, doverosa, un fatto inqualificabile che danneggia ambiente, salute con responsabilità politiche, amministrative e istituzionali evidenti. E mai come in questo momento in cui approfittando di emergenze varie sia alcuni governanti locali e regionali sia quelli nazionali cercano di derogare a tutto a danno della salute dei cittadini e quindi della vita di tutte le popolazioni. Sono missioni gravi, complicità quantomeno politiche istituzionali e morali. Questa è una vertenza che va avanti da anni. Si mantiene viva grazie alla forza, al coraggio, alla passione e all'onestà delle associazioni, dei movimenti, dei cittadini che resistono e giustamente lottano per difendere il territorio. Nel corso della manifestazione sono state ricordate le battaglie condotte in questi anni dal territorio di Salerno e della Valle dell'Irno. Oggi con questo flash mob innanzitutto metteremo della pittura rossa sulle mani dei cittadini per mettere in evidenza che le istituzioni possono lavarsi le mani come hanno fatto in questi 50 anni ma non possono cancellare il sangue purtroppo di questa guerra non dichiarata che è nella Valle dell'Irno. Continua ad allargarsi il fronte a sostegno della candidatura del professore Piero Mastro Berardino, imprenditore che guida una storica azienda a vitivinicola campana alla presidenza della Camera di Commercio Irpinia Sannio. Nelle ultime ore c'è da registrare l'endorsement ufficiale del sindacato CISL delle province di Avellino e Benevento. In una nota ufficiale si sottolinea che in riferimento all'elezione del Presidente della Camera di Commercio Irpinia Sannio per il prossimo 19 luglio, la CISL Irpinia Sannio rappresentata dal segretario generale Fernando Vecchione conferma la sua posizione mantenuta già negli incontri precedenti a sostegno del candidato Piero Mastro Berardino. Nessun dubbio dunque da parte del sindacato, resta da verificare la posizione di Conf Commercio che alla fine potrebbe decidere di sostenere Mastro Berardino per evitare ulteriori spaccature all'interno di un ente che in questa fase diventa strategico per il sostegno alle imprese. Ed è polemica a Benevento per l'ultimo atto aziendale del direttore generale del Sampio che ha stipulato un accordo con due ospedali irpini per prestazioni specialistiche tra le quali anestesia e rianimazione nonostante la cronica carenza di personale. Sentiamo. Un accordo che prevede l'interazione dei medici di determinate specializzazioni dell'ospedale Sampio di Benevento come anestesisti e rianimatori, ginecologi e pediatri presso i due presidi ospedalieri in provincia di Avellino il San Dottone Francipane di Ariano Irpino e il Gabriele Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi. Un atto aziendale del manager uscende Fruncillo che presto lascerà il Sampio per guidare l'asla di Avellino che ha suscitato reazioni e proteste nel Sampio proprio a causa della carenza di personale medico nella struttura ospedaliera sannita. Il consigliere regionale Gino Abate annuncia un'interrogazione, non esclude proteste eclatanti. Veramente imparazzante. Imparazzante perché poi in alcuni interrogativi il progressivo depoperamento dei professionisti del Sampio ovviamente crea dei problemi al Sampio stesso e per quanto riguarda il ricordo programmato gli interventi operatori programmati per la carenza cronica di anestesisti e quindi alla luce di questo non vorrei che ci fosse questo progressivo depoperamento fosse poi diciamo l'inizio di un declassamento dell'ospedale Sampio da seconda livella, prima livella. Tante le incognite sollevate dall'esponente di noi campani. Accendere dei fari e un'attenzione sull'ospedale e dei professionisti presenti all'interno di Sampio ma soprattutto del territorio e dei cittadini che devono sapere a cosa conduce questo tipo di comportamento. Ne parlerò anche con il presidente De Luca ma bene anche con delle, diciamo, in base alle risposte faremo anche delle manifestazioni, anche tra tanti. Gli agricoltori campani lanciano l'allarme siccità tra rincari dei prezzi e crisi idrica a rischio le coltivazioni. Sentiamo il servizio. Da nord a sud l'Italia è alle prese con la siccità una grave crisi idrica che sta mettendo a rischio le coltivazioni e in ginocchio le aziende agricole. Veronica Barbati, presidente nazionale col diretti giovani scatta una fotografia del momento estremamente delicato anche in Campania. Questo è un anno che per noi è stato estremamente complicato venivamo fuori da una pandemia c'è stato il conflitto bellico che purtroppo ha fatto schizzare ulteriormente i costi di mangimi piuttosto che altri mezzi tecnici di produzione e questo chiaramente ha già avuto un impatto molto forte sulla parte produttiva. In più scontiamo un periodo di fortissima siccità che ovviamente assolutamente non ci agevola per di più in un contesto, in un panorama in cui alcuni già tendevano a ridurre parzialmente la produzione per contenere i costi. E da Napoli, dal bufala festa, la CIA rilancia l'allarme. Sono stati stanziati i fondi per il nord perché non hanno acqua da qualche settimana sbotta Gennaro Sicolo, vicepresidente nazionale. Noi al sud è da secoli che conviviamo con questo problema. Noi agricoltori meridionali irrighiamo con le lacrime. Occorre un progetto nazionale decennale. Bene il PNRR che ha finanziato la diga di Campolattaro ma con queste risorse si dovrebbero finanziare anche piccole opere diffuse sui territori. Sullo sfondo una crisi energetica che impone di ripensare l'intero sistema per non collassare e garantire autosufficienza alle imprese. Noi abbiamo condotto una battaglia come Coldiretti e Coldiretti Giovani Impresa per fare in modo che questo avvenga attraverso il fotovoltaico per esempio in una maniera che sia però capace di contemplare tutti gli interessi in gioco e quindi di non consumare ulteriormente solo agricolo. Il sindacalista Claudio Sabattini Una vita in movimento è il libro scritto da Gabriele Polo dedicato alla figura dello storico esponente della FIOM CGL e presentato oggi a Napoli alla presenza dell'ex sindaco Bassolino e del segretario regionale CGL Claudio Ricci. È una persona che ha scelto di fare sindacalista lui da giovane era un dirigente del Partito Comunista sceglie di fare sindacalista perché crede che il sindacato sia il luogo più utile per l'emancipazione e il miglioramento delle condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori. Presentato già a Napoli alla Camera del Lavoro metropolitana è inviato l'edo il libro di Gabriele Polo il sindacalista Claudio Sabattini Una vita in movimento testo che ripercorre le vicende politiche e sociali del secondo novecento attraverso la vita dello storico esponente della FIOM CGL di cui l'autore ricorda il grande impegno a difesa dei lavoratori. Fonda tutto il suo percorso su alcune architaglie che sono la democrazia come rapporto con i lavoratori ma anche come metodo di lavoro e di rapporto con gli stessi sull'indipendenza e l'autonomia del sindacato la FIOM di oggi è anche il prodotto soprattutto degli anni di Claudio Sabattini. Ad aprire lavori il segretario generale della CGL Napoli e Campania Nicola Ricci che di Sabattini evidenza soprattutto la contemporaneità delle sue battaglie. Sabattini è stato un grande dirigente del FIOM e della CGL io aggiungo che ha saputo guardare le condizioni economiche e sociali in cui saremmo arrivati. Il segretario nazionale della FIOM da Napoli assicura Nel segno di Claudio Sabattini continueremo ad essere i metalmeccanici che con la loro storia hanno poi dopo realizzato obiettivi di carattere generale per il resto del paese e per tutto il sindacato. Presente all'incontro inoltre è anche l'ex sindaco di Napoli Antonio Bassolino oggi consigliere comunale e presidente della Fondazione Sud. La sua lezione è quale? A mio avviso che la sinistra deve avere le sue radici nel mondo del lavoro in un mondo del lavoro che cambia, che muta. A cent'anni dalla nascita Benevento ricorda Pierpaolo Pasolini con una mostra bibliografica allestita in biblioteca provinciale cuore dell'esposizione e lo storico processo nei confronti del regista che dovette difendersi dall'accusa di oscenità. Pierpaolo Pasolini ha raccontato per il solo piacere di raccontare con questa mostra bibliografica in esposizione fino al 17 luglio presso la biblioteca provinciale Mellusi Benevento ricorda il grande intellettuale un progetto di Sagna Europa che gestisce la rete museale della provincia in collaborazione con la cooperativa Macchine Celibi. L'idea nasce dal fatto che c'era il centenario di Pasolini volevamo trovare un tema che potesse piacere un po' a tutti perché il nostro interesse è quello di mostrare la biblioteca quindi i libri i giornali e tutto il patrimonio veramente prezioso che c'è al suo interno. Cuore della mostra è la ricostruzione attraverso documenti e giornali d'epoca del processo penale del 1972 celebrato a Benevento proprio nei confronti di Pasolini accusato di oscenità per il film I racconti di Canterbury i giudici di Benevento con una storica assoluzione sancirono che l'arte è inviolabile e la libertà d'espressione intangibile. Una vicenda storica importante per la città come il processo appunto al film dei racconti di Canterbury che vede imputati Pasolini Grimaldi e Iannella che era il gestore Beneventano gestore del cinema teatro comunale quindi qui troverete in mostra i giornali dell'epoca poi abbiamo anche una copia in inglese dei Canterbury Tales e abbiamo poi le prime edizioni dei tre libri dei tre romanzi con i quali Pasolini partecipò al premio strega e arrivò in finale e che furono anche loro accusati di oscenità. Si alza il sipario sulla 34esima edizione del premio Charlot a Salerno ieri sera il taglio del nastro del teatro delle arti Taglio del nastro per la 34esima edizione del premio Charlot al cinema teatro delle arti l'inaugurazione a cura del patronne direttore artistico Claudio Tortora un evento capace di richiamare non solo tanti spettatori ma anche artisti di fama tra le novità annunciate in queste ore Monio Vadia e Federico Sanguinetti un parterre d'eccezione che si aggiunge ad una delle novità più apprezzate del premio vale a dire lo Charlot Giovani dove a farla da protagonista sarà la comicità il cuore del premio che è la gara con sette giovani cabarettisti pronti a sfidarsi a son di battute e di risate provenienti da tutta Italia dal Lazio dalla Sicilia dalla Lombardia dalla Campania e quindi vicino alla gara riconfermiamo anche quest'anno questo workshop che si farà il 19 e il 20 e il 21 luglio al Teatro delle Arti curato da Alessio Tagliento autore di Zelig ma anche di tanti comici del panorama nazionale del cabaret come Panariello Raul Cremona Cassini e anche questo è gratuito è aperto a tutti coloro che vogliono iniziare ad avvicinarsi al mondo del cabaret e poi si continua come ho detto all'arena con il grande evento finale il giorno 29 luglio con la serata della Santa Allegrezza in questi primi giorni del premio Charlot il protagonista assoluto sarà però Pierpaolo Pasolini al Delle Arti in programma la mini rassegna dedicata all'artista romano realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna è tutto è tutto con il nostro Tg grazie di averci seguito vi auguro una buona serata di Bologna Grazie a tutti.